Partiti. 1500 metri da percorrere per questi cavalli di tre anni anglo-arabi. La più sollecita sembra essere per lavoro nei confronti di Perledi. Mentre i cavalli di transita ma davanti alle tribune. E' in vantaggio Perledi nei confronti di Piumetta, poi Pinude Marchesana con l'11 Porto Alabe. Perledi al comando e Parledi in seconda posizione Piumetta, poi Porto Alabe, Pinude Marchesana. Avanza anche Pepe. Mentre i cavalli affrontano addirittura opposto alle tribune. Non mutano le posizioni con Parledi leader nei confronti di Piumetta che inizia a essere richiesta braccia e frusta dal suo fantino. Così come Pinude Marchesana centro-pizza. Avanza anche Posperpina De Ghenta. Mentre i cavalli affrontano la piegata finale allunga Palledi nei confronti di Piumetta. Poi Pinude Marchesana. Mentre i cavalli affrontano la piegata finale sempre al comando Palledi nei confronti di Pinude Marchesana. All'esterno poi avanza Posperpina De Ghenta così come Porto Alabe. E' in vantaggio Parledi nei confronti di Porto Alabe che a centro-pizza sacca e allunga. Venendo a siglare questa terza corsa del ripodo Pimetta. In seconda posizione il numero 3 Palleri.